L'obiettivo del nostro gruppo consigliare è portare i propri consiglieri fuori dal palazzo. È necessario avere questi contatti continui con le istituzioni superiori. Avvicinare quanto più possibile le periferie. Sono convinto che un'azione forte come stiamo facendo insieme al Presidente Caldoro riusciamo sicuramente a rilanciare la nostra terra. È il modo col quale bisogna iniziare a ragionare e a portare avanti. Questo è un gruppo che ha lavorato bene in tal senso perché si è impegnato molto sulle priorità. Però di fatto c'è un'emergenza e va affrontata. È la prima volta che la Regione si apre al territorio. È un appuntamento sicuramente prezioso per quelli che sono gli obiettivi che ci siamo posti. È la Regione che si avvicina al territorio. Lo Stato si sposta verso i cittadini. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti